Anche Liberi di Scegliere ha scelto di essere presente alla fattoria in città grazie all'invito di Ascom che ringraziamo tantissimo. La nostra associazione come da circa un anno propone il libro e il cartone animato Fiabe di Riso dedicato a tutti i bambini, un argomento in tema alla fattoria in città che riguarda non solo i bambini italiani ma anche i bambini di tutto il mondo essendo tradotto e doppiato sia libro sia cartone animato in quattro lingue, italiano, inglese, russo e spagnolo. Dopo il successo di Expo vogliamo riportare a Vercelli, a casa sua, il chicco di riso, la storia del nostro prodotto principe e naturalmente a beneficio di tutti i bambini vercellesi e no. Naturalmente come già sapete in molti la nostra attività si rivolge grazie a Fiabe di Riso a progetti di assistenza e di cura a ragazzi e a bambini diversamente abili. Un programma che la nostra associazione fa dal 2008 e vorrebbe continuare a fare. Grazie ad Ascom per questa grandissima opportunità e grazie a tutti quelli che ci faranno visita.